E che ve lo venga di a voi? Forse aver preso il mio cagnolino, Benji. Oddio, che bello, ho visto il tuo film, la tua serie, un sacco di cose carine, dipende. Beh, i sneakers, tutta la vita mia. Sono una fan delle sneakers. Subito, prima del decollo, è proprio una regola per me. Il mare. Forse i miei amici. Il raccordo anulare. La cena. Probabilmente starei studiando, forse psicologia all'università. Troppi geni a cui chiedere troppe cose, adesso non lo so, forse chiederei a Socrate delle delucidazioni. Ecco. Ma forse vivrei nella preistoria. Mi mangio McDonald's compulsivamente di nascosto da tutte le persone che mi conosco. Acqua e sale di Minetto Ventano. Ho paura che piovano serpenti dal soffitto. sull'orario in cui esco di casa quando ho un appuntamento. Per il film Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese. Aiuto. Vuoto pneumatico. Un film, un film, un film, un film. Eri, ti presento serio. Ciao, sono Benedetta Porcaroli e se volete vedere altri video Vanity Fair, cliccate qui.